ovviamente ma perché devo parlare cazzo queste cose qua si si avverano ma che casino andò andato qua che culo andate ma spara non sparava faccio così così non spara devo per forza mirare che puttana scusa in segno guardate l'aero voglia che casino grande grande esatto ciao non posso giuro che ho detto così a cazzo a cazzo dubbioso eh ma perchè non abbiamo 164 ah bella un puntabilità intanto munizioni ma che sei carico per non serve male ah ho già caricato buoni 150 colpi do andare di qua da qui sotto quando ci sono gli api di bianco per nardi qua quindi no ferma vabbè tanto le granate ah giuro che non sapevo che si poteva che si poteva che si poteva far mai facendo così bella vai oh cazzo via meglio andarcene da qui che ne dite cazzo aiuto 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 sto finì puttana c'è ma dove dov'è ah la ah è finito il casino vabbè vi porto qualcosa in più perché non posso neanche ancora fermarmi appena è finito il casino spero finisca pista però che succede adesso no oh merda via via wow eh ah toto 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 tankete via 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 no ah che curioso la proposta che cazzo fiori è la meglio che si sbrigano che ci scusate fiori devo andare di qua si guarda di qua per fortuna si è preso guarda qua figata però prenditi a parte che eh fiori cazzo una scatola piena di tnt merda via ah ecco infatti mi domandavo solo cosa solo questa botta qua tirato un po' di più bella dai 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 che ce la stavo facendo oh che culo c'è dove cazzo è finito rotta ah grande bella scena però questo non che culo che sono dobbiamo saltare wow il saluto più preciso da mia vita cazzo fiori cioè che culo oh bella l'ultimizzato l'ultimizzato di me l'ultimizzato chi cazzo sei nico non sei abbandonato no sono dentro poi c'è la campesca vorrei evitare di uscire eh almeno adesso stavo tornando indietro merda l'ultimizzato cazzo e Lara lo sapeva ahia gli si è aperto la ferita ah 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 svegliti dai svegliati dai non lasciarmi oh che forse si merda era troppo bello essere finita sulla cosiddia era troppo bello essere finita sulla cosiddia ok not some ideas not 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 stop merda cazzo roto no no non morire non posso farcela senza di te mi spiace mi spiace si che puoi sei una kraft no eh merda roto peccato cazzo veramente peccato non fa pena stai bene se sta bene sempre a pensare alla vero ti sei scordata che ci ha trascinato in questa merda ma è affanculo coglione si hai ragione lo so dovevo dirlo soltanto che roto quello proprio subito stai bene l'ara poteva anche risparmiarlo ora pensiamo a portarlo in un luogo sicuro è morto da eroe e gli renderemo onore come tale dai che devo spegnere cioè per carità voglio fare questa cosa qua però perché è importante però è anche vero che dopo ci metto anni per caricare lo subito per il mese mi peso due giga più o meno mi sembra che si mi pare del capito che si chiama sua figlia sì 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 l'isola non è normale so che lo sai so solo che questo posto sfugge a ogni logica pensi che l'istinto sia una debolezza invece può darti forza ascoltalo ci serve il ragazzone ha ragione bravo voglio restare con lui mi serve tempo ma bene ma bene ho vero rotto però mi dispiace tanto ma è che si è morto sai dove trovarci ricca vieni quando te la senti senza di te non ci muoviamo si spera no 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 stiamo cremando ro adesso cosa farò hai un grande istinto piccola devi solo fidarti non si scava le tempeste sono legate al potere della regina del sole ah finalmente qualcosa nel monastero c'è una sala sacra si è custodita dalla guardia tonante laddentro troveremo il modo di placare le tempeste un ingresso segreto lungo il fiume la barca non possiamo allontanarci dall'isola ma ci porterà alla sala sacra sbaglio è il libro quello sarei dovuta andare con loro bella ragazze allora bene il prossimo volta andiamo a potenziarsi la pistola come avete visto abbiamo avuto il potenziamento poi leggeremo il libro andremo a prendersi quello che c'è dietro a quel muro di coce di ferro perché immagino che se c'è una stanza segreta la sarà pieno di minchiate spero io devo leggere un po' di materiali perché mi servono vabbè ciao a tutti alla prossima grazie per avermi seguito grazie a tutti grazie a tutti